Eccoci, Cristian, siamo adesso arrivati al tuo focus, se vuoi già preparare la presentazione, in qualche modo così scorreremo anche le immagini durante il tuo racconto, ricordo che anche questo webinar sarà poi visibile attraverso un video tra qualche giorno, chiedevate appunto se era possibile, se tra qualche giorno ci sarà anche il video per poter rivedere oppure vedere per la prima volta qualsiasi cosa in questo momento formativo. Eccoci qua, ci siamo, possiamo partire. Mi confermi quindi che è già visibile la presentazione? Esatto, la vediamo. Perfetto, ok. Bene, allora, buongiorno a tutti, io sono Cristian Nizzoli, sono responsabile marketing di ABK Group e l'intervento che ho preparato per oggi appunto si chiama Grandi Lastre, Decorazione e Custom Made. Quindi noi in qualità di azienda produttrice, azienda ceramica produttrice anche di Grandi Lastre, vi presenteremo appunto quello che per noi la Grandi Lastra nell'ultimo periodo è stato anche visto come l'opportunità di utilizzare un materiale dalle elevate performance tecniche anche in maniera un pochettino diversa, in maniera creativa al servizio appunto della progettazione attraverso in particolar modo due progetti. speciali, uno dedicato alla decorazione a parete e l'altro all'arredobagno. Due parole anche velocemente insomma perché magari per chi non conosce il nostro gruppo, la nostra azienda, azienda ceramica che ha una storia comunque relativamente giovane in quanto nasce nel 1992, è un'azienda, una storia anche fatta da acquisizioni, acquisizioni di altri brand commerciali che ci hanno portato nel settore ceramico oggi a un fatturato insomma che ci colloca all'interno delle 10-12 realtà in Italia con diciamo il maggior numero di fatturato di aziende produttrici ceramiche in Italia e che realizza questo fatturato principalmente con i tre brand che sono ABK, emozioni in superficie, Flaviker e ceramica ariana. Qualche numero anche così per illustrare ulteriormente quelle che sono un po' le realtà, la realtà e le dimensioni dell'azienda. Noi siamo un'azienda dicevo che produce quindi interamente in Italia e in particolar modo all'interno della provincia di Modena che costituisce un po' il distretto principale per la ceramica. Quindi abbiamo due realtà produttive, una a Finale Miglia e una a Solignano, entrambi in provincia di Modena, Solignano vicino Maranello per intenderci. Nello stabilimento di Solignano abbiamo la produzione anche delle grandi lastre. Oltre a questo chiaramente abbiamo diversi poli logistici e diversi magazzini in base alle diverse tipologie di prodotto, dei formati e alle tipologie che commercializziamo e produciamo. La nostra idea è quella proprio di proporre a livello di gruppo e anche attraverso i singoli brand un progetto ceramico più che un prodotto ceramico. Cioè un sistema di superfici che studiamo in interazione tra modularità di formati, gamma colori e sensazioni, ispirandoci a quelle che sono un po' le tendenze e le esigenze nel mondo dell'edilizia, è un sistema, dicevo, di superfici che possiamo utilizzare ormai praticamente ovunque. Nel senso che il prodotto ceramico che fino a qualche anno fa era per antonomasia un prodotto da pavimento o da rivestimento per alcune zone della casa come il bagno, la cucina, con l'avvento delle grandi lastre ormai è diventato un prodotto estremamente versatile, quindi un prodotto che va anche a occupare altri spazi. Quindi noi ci occupiamo di fare questa ricerca e questa progettazione coordinata per sposare un'idea anche di coordinato nel momento in cui viene fatto il progetto di uno spazio. La nostra azienda ha comunque anche un'attenzione particolare al tema ambientale, visto che tra l'altro veniamo dall'intervento precedente dove abbiamo visto come è stato posto al centro anche la tematica di ecosostenibilità. Nel nostro caso la tematica di ecosostenibilità parte proprio dalla fabbrica, nel senso che noi abbiamo, ci siamo dati degli obiettivi che riguardano ad esempio il monitoraggio delle emissioni, cercando di tenere costantemente al di sotto dei limiti consentiti questi valori, il tema del riciclo dell'acqua perché come sappiamo l'acqua è necessaria nel processo produttivo, ma il recupero dell'acqua è un recupero che viene fatto in maniera totale, il riutilizzo all'interno del ciclo industriale è per noi un obiettivo fondamentale, insieme anche al riutilizzo di tutti i materiali residui. Noi che ad esempio gestiamo anche il taglio, la rettifica, lavorazioni che comportano appunto la produzione di residui, eccoci preoccupiamo che questi possano essere recuperati all'interno del ciclo produttivo. Altro importante obiettivo è la riduzione dei consumi di energia, quindi il costante aggiornamento, gli investimenti che vengono fatti all'interno delle sedi produttive, anche per tenere aggiornati i macchinari, gli impianti, nell'ottica di ottimizzare i consumi, vanno sempre in questa direzione. Tant'è vero che ABK Group ha creato questo logo che si chiama EcoBody, che è un logo di certificazione non di un prodotto in particolare, ma relativo proprio all'impasto, a quello che sta sotto alla superficie ceramica. Tutti i prodotti, o comunque una buona parte, parliamo di oltre l'80% dei prodotti a catalogo, che hanno questo logo EcoBody, significa che hanno un contenuto di un 40% minimo certificato di materiali recuperati da altri processi produttivi. Quindi parliamo non chiaramente di materiali di scarto, parliamo di materiali comunque che sono di qualità, ma che semplicemente vengono come materiali di recupero da altre elaborazioni per le quali non sarebbero materiali necessari. Il logo che appunto certifica questi prodotti, diciamo che ci permette con questi prodotti anche di avere, di partecipare all'accredito nell'ottica del sistema di rating LEED, concorre appunto all'accredito nei progetti di edilizia sostenibile. Ecco, un primo veloce accenno che vorrei fare prima di introdurre i progetti speciali, da cui facevo riferimento, cioè come la grande lastra può diventare anche qualche cosa di altro rispetto a una unica superficie, farei un velocissimo accenno a quello che è stato un po' il progresso nel nostro settore, che quindi riguarda ABK Group, come ha riguardato anche altre aziende del comprensorio, e il passaggio epocale che c'è stato grazie a una serie di innovazioni tecnologiche che anche la nostra azienda ha sposato. Noi fino a qualche anno fa vivevamo un po' di questa dicotomia all'interno del mondo ceramico tra il cosiddetto gress porcellanato, quindi un materiale che prevede un ciclo di cottura con temperature particolarmente elevate, che rende questo materiale ingelivo, molto resistente, del tutto impermeabile, molto duro, quindi magari con una certa durezza che alle volte diventa un po' più difficoltoso nel momento in cui dobbiamo tagliarlo o lavorarlo. Dall'altra parte il prodotto ceramico da rivestimento era anche tendenzialmente visto come bicottura, cioè la tecnologia tradizionale che serve tuttora per piastrelle da rivestimento che hanno magari come destinazione d'uso solo quella del rivestimento a parete, quindi non tanto quella del pavimento, partendo da un supporto che viene prima cotto e poi dopo che subisce appunto una seconda cottura, da cui il nome bicottura, per fissare gli smalti e la parte diciamo più decorativa superficiale. Nel nostro caso alcune tappe fondamentali della nostra storia riguardano appunto, siamo ancora negli anni 90, nel momento in cui una buona parte della produzione ceramica italiana, e quindi anche la nostra è ancora legata a produzioni ceramiche da pavimento con formati che non superano magari il 50x50, il 30x30 all'epoca era ancora uno dei nostri formati più venduti e con un prodotto che per di più tra ispirazione dal mondo del rustico, nel senso che in quegli anni spesso la ceramica, il prodotto in grass porcellanato, era quasi visto come il sostituto, la possibile sostituzione del cotto, quindi cambiando appunto il gusto e con l'evoluzione della tecnologia, ecco che a distanza di qualche anno, qui siamo nel 2010, lanciamo i prodotti effetto legno, prodotti effetto legno che si potevano realizzare per due motivi in particolare, perché nel frattempo c'è stata la rivoluzione della tecnologia digitale, quindi la tecnologia digitale ha reso possibile riprodurre sulle superfici ceramica un numero impressionante di metri quadri di grafica rispetto a prima quando venivano impressi solamente dei rulli e oltre a questo c'è stata l'evoluzione delle presse e la possibilità di avere dei formati decisamente più importanti. Con il boom del legno ceramico, ABK ha introdotto anche l'importante novità tecnologica del cosiddetto autoleveling, ovvero impasto a maggiore elasticità. Come sappiamo la ceramica, il supporto ceramico è un materiale tendenzialmente rigido e con la ricerca fatta nei laboratori di ABK Group, anche nel caso, insomma, una ricerca che comunque aveva, come vedevamo prima, ma anche obiettivi di ecosostenibilità, quindi utilizzando anche materiali di recupero, si è lavorato allo stesso tempo anche per cercare di aumentare l'elasticità, la plasticità di questo impasto. Quindi creando con la complicità anche di un formato che ha queste proporzioni più strette e più lunghe, quindi grazie soprattutto a questo 20x170 introdotto già nel 2010, ecco che i nostri listoni ceramici diventano anche un materiale che aiuta anche in fase di installazione, perché appunto abbiamo meno rigidità e quindi anche il posatore è facilitato nel momento dell'incollaggio. Questa esperienza nella ricerca degli impasti è fondamentale per ABK Group anche nel passaggio che va dalla piastrella alla lastra. Ecco per quale motivo ho voluto sottolineare appunto questo lavoro precedente, perché quando nel 2016 viene fatto ufficialmente, viene inaugurato ufficialmente il nostro primo impianto di linea continua, quindi impianto che nasce proprio per la produzione di grandi lastre, ecco che l'esperienza fatta sulla tecnologia autolevelling ci permette di avere anche in questo caso delle performance sulla lavorabilità e sull'elasticità migliori rispetto anche ad altri competitor. Noi abbiamo realizzato questo risultato grazie oltre alla ricerca appunto fatta sulle materie prime, anche grazie al sistema di cottura, in quanto questa linea è servita da un forno che anche ancora oggi è tra i forni ceramici più grandi d'Italia, è un forno che misura quasi, che è lungo quasi 200 metri. Ma perché è importante segnalarlo? Perché il fatto di cuocere questo materiale all'interno di un forno così lungo significa che viene fatta una cottura lenta, il materiale si muove lentamente lungo questa curva di cottura e questo fa sì che il materiale venga liberato da tutte le tensioni che può rilasciare diciamo una volta che viene raffreddato. Quindi un materiale che proprio per questo avrà un vantaggio in fase di posa e installazione. Qui vedete i nostri principali formati, quelli che per noi significano grande lastra. ecco le caratteristiche, dicevamo prima, sintetizzate attraverso queste tre icone, quindi le grandi lastre ABK Group che sono Wide, è questo nome che abbiamo dato a questo mondo di Wide, quindi ampio perché si passa a un formato decisamente più ampio, prodotto che nasce da questa perfetta combinazione tra impasto e grande dimensione, quindi il discorso del leveling, quindi che si adatta facilmente in fase di posa, easy, quindi la forbice che sta a significare la facilità di taglio, di lavorazione, nel momento in cui dobbiamo trasformare la lastra in qualche cosa d'altro, e poi il green, quindi l'attenzione al tema dell'ecosostenibilità. Chiaramente un prodotto si qualifica oltre che per l'aspetto tecnico, anche per l'aspetto estetico, quindi chiaramente il vantaggio è anche quello di avere una gamma di materiali che oggi riesce a riprodurre molto efficacemente le sensazioni materiche e l'effetto grafico di marmi, materiali che come sappiamo diventano magari sempre più rari, materiali che vanno praticamente a esaurirsi, marmi e pietre, oppure prodotti dall'aspetto più contemporaneo, come potrebbero essere gli effetti delle resine, gli effetti dei metalli e quelli dei cementi. Il tutto nell'ottica di avere appunto un sistema di superfici da poter abbinare tra di loro, quindi tornando al punto iniziale, cosa significa per ABK Group avere questo sistema? Significa poter fare il cosiddetto mix and match, quindi tra pavimento, rivestimento ed altre superfici, avere una serie di proposte che per il progettista, per l'architetto, possano integrarsi piacevolmente tra loro. E quindi andando anche oltre, come dicevamo, non più solamente il pavimento e rivestimento, ma anche materiale che grazie a questi grandi formati può diventare il materiale la superficie di altri elementi, piani lavoro per cucine, arredo bagno, elementi di completamento per il bagno, o comunque di arredo in generale. Da qui partiamo con il nostro primo progetto speciale, si chiama Wide and Style, cioè il Wide intendevamo come Wide il concetto del nostro mondo di grandi lastre, e per style che cosa intendiamo? Intendiamo il fatto di portare un'idea di decorazione a parete. Che cos'è quindi questo Wide and Style? È un progetto, una collezione, chiamiamola così, quasi una sorta di brand è diventato per la vastità di articoli che in una serie di formati che sono a oggi principalmente il 120x240, il 120x270 e il 160x320, ecco che andiamo a presentare una serie di pattern oltre 70 soggetti a catalogo realizzabili su queste grandi lastre. Quindi sfruttando le caratteristiche tecniche del materiale ceramico che come dicevo prima, oltre ad essere un materiale resistente, è un materiale anche facilmente igienizzabile, vista anche un po' la sensibilità che abbiamo acquisito in quest'ultimo periodo anche per l'aspetto igienico, per la facilità di pulizia materiale che quindi può essere collocato praticamente ovunque. Ecco perché proponiamo questa scritta Everywhere, perché con queste grandi lastre che noi chiamiamo Ceramic Wallpaper, quindi l'idea è quella di trasferire il wallpaper, le carte d'apparati, il mondo decorativo dei pattern a parete, ma su un materiale ad ampie prestazioni, che quindi può andare non solamente nell'ambiente bagno, che è magari un ambiente che noi conosciamo bene dal nostro storico, ma che può andare a collocarsi in tante altre zone, compresi anche le facciate esterne. Quindi, questo per quale motivo? Perché utilizziamo una tecnologia che abbiamo chiamato Digit Fluss, che prevede la cottura, un nuovo ciclo di cottura sul materiale già greificato, a circa 800 gradi. Con questa seconda cottura noi possiamo fissare e rendere inalterabili i colori, le grafiche, che potranno durare praticamente senza controindicazioni anche in ambienti umidi, oppure negli ambienti sottoposti all'azione prolungata dei raggi UV. A questo abbiamo aggiunto anche un Digit Plus, cosiddetto floor, quindi con un'attenzione particolare al pavimento, perché nel pavimento a tutto quello che abbiamo detto in precedenza si aggiunge anche l'azione prolungata del calpestio, quindi una maggiore resistenza della superficie è richiesta perché c'è la componente del calpestio. In questo caso un film protettivo, quasi una sorta di graniglia trasparente, viene applicata in aggiunta al Digit Plus, quindi alla decorazione digitale, proprio per garantire sui formati più idonei da pavimento, che in questo caso sono formati quadrati, anche l'applicazione in questi contesti. A questo abbiamo aggiunto un progetto di Tinte Unite, quindi un progetto anche qui customizzabile, da cui è il titolo anche dell'intervento, perché già comunque Wide and Style è un qualcosa che viene comunque realizzato sull'ordine. Non facciamo magazzino, abbiamo comunque la possibilità, come dicevo prima, di scegliere tra tanti soggetti a catalogo, ma possiamo valutare anche collaborazioni in partnership con gli studi di progettazione anche per realizzare e intervenire sulle grafiche o realizzare grafiche nuove e tra l'altro vi farò vedere proprio subito dopo anche una case history. Dicevo, anche le Tinte Unite ci danno questa opportunità in quanto si può realizzare per, chiaramente, seguendo anche un ordine minimo di acquisto, un colore specifico scegliendolo all'interno della scala RAL. Questi sono i colori che abbiamo scelto che per noi sono più facilmente adattabili alla gamma ma volendo si può anche prevedere qualcosa di on demand. Poi abbiamo semplicemente qualche esempio nel nostro catalogo di qualche applicazione di questi pattern che come vedete anche per sfruttare un po' quello che è il trend che adesso è legato al mondo della natura, del tropicale, insomma prevedono anche tutta una serie di soggetti legati a questo mondo della natura, del verde, nell'ambiente bagno ma non solo, ci sono anche altri soggetti frutto della creatività di nostri progettisti, di persone anche che lavorano all'esterno dell'azienda perché Widenstile per noi è anche un laboratorio creativo che ci permette di collaborare anche con designer e persone esterne che portano un contributo di originalità che creano insieme a noi queste cosiddette capsule collection che hanno diversi temi non solamente quello che avete visto appunto del botanico del naturalistico ma anche delle ispirazioni di carattere più geometrico o creativo qui una veloce carrellata come dicevo per vedere anche possibili applicazioni di questi materiali in altre zone in altri ambienti l'ambiente commerciale quindi le opportunità anche per quei progetti che devono avere magari una forte connotazione un carattere particolare una connotazione progettuale ben distinta ecco che possiamo imprimere un qualche cosa di un segno veramente molto importante e le facciate esterne quindi anche da poter studiare insieme anche come sottomultipli ecco la customizzazione per noi significa anche che all'interno dei progetti commerciali insieme al nostro team creativo al nostro laboratorio e a chi si occupa della produzione è possibile poi modificare o inserire anche ad esempio loghi o altre necessità legate al mondo del progetto la case history di cui vi parlavo ecco il mondo wellness viste le caratteristiche anche degli ambienti che sono ambienti umidi ambienti soggetti a traffico che devono essere igienizzati dove ci sono appunto condizioni di stress diverse dall'ambiente domestico è interessante appunto vedere come insieme a questo partner cuciterme abbiamo portato avanti questo progetto per la ristrutturazione di una parte di questa spa a Chamonix nel caso specifico da qui siamo un po' partiti nel senso che a Cersaie come sapete la principale manifestazione del settore ceramico vennero presentati questi pannelli per la prima volta in questo caso un tema legato proprio al mondo del bosco quindi un tema naturalistico che è stato guardato con interesse dal team di cuciterme perché nella cornice paesaggistica nella quale si inserisce questa spa si voleva riportare anche all'interno l'idea di continuità col paesaggio esterno quindi è stato scelto un soggetto facente parte della collezione Wild and Style e insieme al nostro team di progettazione si è pensato come scomporlo quindi partendo dal fatto che è un soggetto a tre a tre facce e abbiamo lavorato collaborato insieme a loro per fornirgli un adeguato schema di posa per arrivare poi a questo risultato dove all'interno di questa zona dedicata a un percorso KNIPE quindi una sorta di massaggio plantare che viene fatto in queste vasche ecco che siamo come avvolti ancora dalla natura che circonda la spa all'esterno allo stesso tempo e anche qui vedete ambiente con continuo afflusso di acqua perché è una zona di massaggio abbinata a questa cromoterapia quindi in questa sala è stato continuato questo rivestimento con questo soggetto qui ci sono delle panche dove appunto sdraiandoci si possiamo avvalere di questo idromassaggio che viene dall'alto allo stesso modo anche qui per dimostrare come l'azienda si dimostra essere un'azienda anche quasi sartoriale che va incontro all'esigenza del committente in maniera anche personalizzata quindi da qui anche il concetto di custom di customizzazione in un'altra delle spa del gruppo in questo caso siamo a presa la necessità era quella di intervenire in una zona di bagno turco diciamo così una zona dedicata a questa attività nella quale era richiesto un pattern che noi abbiamo chiamato erbarium proprio perché suggeriva un po' l'idea di queste erbe aromatiche eccetera ma che nel nostro catalogo era presente in un'altra colorazione quindi in questo caso la nostra grafica è stata modificata da un punto di vista cromatico per venire incontro alle esigenze del team di progettazione cuciterme non solo come vedete abbiamo anche fornito il file ad alta risoluzione per fare in modo che anche i vetri dell'ingresso di questo bagno turco potessero in continuità presentare questo pattern decorativo quindi da qui anche un lavoro di personalizzazione che è andato anche oltre il materiale fornito da noi la seconda e ultima parte diciamo dedicata a quest'idea di grande lastra che diventa qualche cosa d'altro da rivestimento affronta appunto il tema del bad design quindi solamente per ricordare che la nostra azienda si è strutturata ormai da due anni oltre che per la vendita di prodotti da rivestimento e di grandi lastre anche per la commercializzazione di elementi d'arredo realizzati in gress porcellanato quindi il gress porcellanato anche per un per un discorso di coordinarsi con le varie superfici per poter appunto realizzare dei progetti nell'ambiente bagno perfettamente coordinabili o con delle superfici a contrasto che possono essere piacevolmente integrate fra di loro ecco che proponiamo e avrete anche una brochure informativa su questo elementi realizzati che partono dai lavabi come vedete dal discorso dei lavabi a colonna disponibili con due diverse forme e che possono essere scelti selezionati da tutta la nostra gamma di superficie quindi di volta in volta nel momento in cui vengono ordinati vengono realizzati proprio su richiesta nel materiale prescelto perché magari si vuole andare in perfetta continuità col materiale scelto per la parete o per il pavimento del bagno le possibili varianti sono praticamente infinite perché come dicevamo non essendo anche questo un prodotto gestito a magazzino ma sull'ordine come nel caso di Widen Style è un prodotto che ha quattro settimane dal momento dell'ordine al momento della consegna che spazia tra tutti questi vari modelli di lavabi anche a sospensione fino ad arrivare ecco modelli anche con vasca integrata fino ad arrivare anche oltre a quelli d'appoggio alle minsole ai top e anche ai piatti doccia quindi il servizio in questo caso dell'azienda è quello di potervi permettere di ridurre all'interno dell'ambiente bagno dell'ambiente wellness il numero di materiali e di produrre appunto anche l'elemento d'arredo con la stessa superficie ingress quindi con le stesse caratteristiche tecniche di resistenza di durabilità e di facilità di pulizia che avrete all'interno di tutto il resto del bagno un prodotto che realizziamo grazie anche a un supporto certificato che non facciamo noi ovviamente ma che è un supporto prodotto da un'altra azienda importante che è Schluter System il cosiddetto care di board che costituisce la scocca di tutti questi elementi quindi un materiale che deve dare anche lui un garanzia nel momento appunto dell'applicazione perché è un materiale completamente impermeabilizzato un materiale alleggerito che ci permette di poter costruire insieme ai nostri trasformatori questi elementi d'arredo che tra l'altro e concludo sempre sul discorso appunto della personalizzazione come vedrete nel catalogo molti di questi lavabi di questi top di queste mensole possono anche essere consegnati con una lunghezza su misura quindi al di là di quelle che sono i nostri standard le nostre versioni diciamo per così dire un po' più universali possiamo intervenire anche su un prodotto su misura quindi dando anche un valore aggiunto al progetto complessivo del bagno quindi il concetto è che grazie a questi progetti speciali e anche a bad design le potenzialità espressive delle grandi lastre sono chiaramente ancora implementate quindi largo alla creatività e alla fantasia dei progettisti e degli interior designer che con questo materiale possono chiaramente sbizzarrirsi e realizzare anche arredi su disegno ok ah scusate torno un attimo velocemente ecco come appunto ci è stato richiesto al termine della presentazione avevo piacere anche a tutti i professionisti che sono collegati di lasciare anche un riferimento per quello che riguarda la nostra divisione Key Account in Italia quindi per chi farà richiesta delle slide o comunque per chi ancora è in collegamento e vede già ho segnato l'indirizzo email e i contatti del signor Ilario Clementoni che è Key Account Manager per l'Italia complimenti grazie sono arrivati un sacco di domande se ti va sulla chat potresti magari risponderne ad alcune perché chiedono appunto informazioni se ti va appunto scorrendo la chat ci sono un po' di domande così ci portiamo avanti poi alla fine diciamo ci concentriamo sulle quelle diciamo con maggiore approfondimento perfetto grazie mille complimenti grazie di nuovo a voi grazie